Sembra arrivata all'ultimo atto la questione etaria Pozzallo che ha causato non pochi grattacapi all'amministrazione del comune Marinaro che ha dovuto vedersela in questi giorni con cittadini imbufaliti per le bollette da record con aumenti fino al 600%. Dopo la riunione con la cittadinanza, il comando dei vigili urbani, il consiglio comune all'aperto presso lo spazio meno assenza, occasioni in cui tantissimi pozzallesi hanno manifestato senza remore la propria rabbia, sostenendo con forza la convinzione di non voler pagare la bolletta troppo salata, ora arrivano le prime decisioni e ammissioni del comune. Qualche errore potrebbe esserci stato e quanto emerso dall'ultima conferenza dei servizi tra amministrazione e consiglieri di maggioranza e minoranza, ma tutti quei pozzallesi che avevano chiesto e sperato in una proroga con un conseguente ricalcolo dell'importo dell'imposta sembra rimarranno delusi. Ai contribuenti che si sono visti erroneamente conteggiati il garage come altro fabbricata ad uso domestico, il comune fa sapere che potranno rivolgersi all'ufficio tributi di Viale Australia per far correggere l'importo. Per quanto riguarda invece altri tipi di errori legati al calcolo ad esempio dei componenti del nucleo familiare, i cittadini potranno presentare stanza per la correzione ma per la bolletta del 2015. Ma sui social la rabbia e la delusione corre già tra i pozzallesi che si aspettavano ben altre risposte e sono ancora in tanti a sostenere che non pagheranno l'ingiusta bolletta.